La cronaca, la notte scorsa i carabinieri del nord di Penne sono intervenuti in uno stabilimento di alimenti surgelati di Alanno dove un operaio manutentore 59enne mentre era intento nella riparazione di un rullo trasportatore per cause ancora in corso di accertamento è caduto a terra da un'altezza di circa 3 metri. Prontamente soccorso da altri dipendenti è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara e questa mattina il personale del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza della ASL di Pescara e i carabinieri della stazione di Alanno hanno eseguito un ulteriore sopralluogo nella ditta di surgelati per verificare se siano state rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.